Quali programmi televisivi andranno in onda questa sera di mercoledì 12 maggio? Ecco per voi una guida dettagliata al palinzesto televisivo di questa sera. Sul Rai 1 andrà in onda il Commissario Montalbano, la celebre serie televisiva ambientata in Sicilia, andrà in onda in prima serata con l'episodio Il Diario del 43. Sul Rai 2 andrà in onda After, in prima visione Rai ed in prima serata arriva il film uscito nel 2019 che racconta la storia di una studentessa modello che dopo essersi trasferita per seguire l'università si ritroverà a vivere nuove esperienze. Sul Rai 3 in programma questo mercoledì 12 maggio Chi l'ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli tratta grandi inchieste, casi di scomparsa e servizi di cronaca. Su Rete 4 andrà in onda un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Giuseppe Brindisi. Su Canale 5 andrà in onda il film commedia Poveri ma ricchissimi, il sequel di Poveri ma ricchi, sempre diretto da Fausto Brizzi. Nel cast vediamo Christian De Sica, Enrico Brignano, Lodovica Comello e Lucia Ocone. Su Italia 1 è atteso il secondo capitolo di John Wick, il film d'azione che vede come attore protagonista Kenny Reeves. Sull'A7 andrà in onda Atlantide, il programma televisivo di approfondimento culturale è condotto da Andrea Purgatori. Sul Real Time andrà in onda Abito da sposa Cercasi. Enzo Miccio alla conduzione dello show aiuta le spose a trovare il perfetto abito per il giorno più importante della loro vita. Nell'episodio che andrà in onda questo mercoledì 12 maggio, Enzo Miccio sarà in Puglia. Non vi resta che mettervi comodi sul vostro divano e godervi una piacevole serata.